Previsioni per martedì 27 novembre, aggiornate le 14.30 del 26. Una saccatura nord-atlantica sta progressivamente entrando nel bacino del Mediterraneo e apporterà un progressivo peggioramento del tempo sull'Italia e sul Piemonte ed in particolare sulla nostra provincia. Le precipitazioni domani saranno diffuse, moderate e localmente forti sui rilievi alpini con picchi molto forti in serata al confine con la Liguria. Quota neve in calo fino ai 1300-1400 metri in serata, zero termico sui 1800 metri. Le temperature in pianura la minima 5 e la massima 13 gradi. In montagna la minima meno 1, la massima 5 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.